Il problema che voglio evidenziarvi è questo Allora, fino adesso noi abbiamo definito delle variabili semplici cioè abbiamo definito delle variabili tipo intero, reale, carattere e quant'altro ma se io vi faccio un esempio, dovessi acquisire 100 dati da una linea di produzione dovrei scrivere un programma nel quale mi definisco 100 variabili quindi scrivo, che so, sono numeri reali, scrivo float x1, float x2 fino a float x100, quindi immaginate scrivere 100 volte queste istruzioni Se le variabili diventano 200, io devo scrivere float 100 fino a 200 Se devo leggere 200 variabili, devo scrivere cin x1, cin x2, cin x100 e se sono 200, scrivo 200 volte questa cosa Ragazzi, questo chiaramente diventa rapidamente una situazione assurda Allora, i progettisti si sono inventati un nuovo tipo di dato che è il cosiddetto tipo strutturato cioè il tipo strutturato è un nuovo dato che contiene un aggregato di dati elementari Allora, io potrei definirmi per esempio il tipo aggregato di 200 valori reali Allora, in questo caso, non devo più scrivere x1 fino a x100 ma definisco un unico tipo di dato che chiamo array di 100 elementi di tipo intero Questo tipo aggregato particolare, che è l'array, ha la caratteristica di aggregare insieme tutte informazioni dello stesso tipo Cioè, metto 100 numeri interi, 100 numeri reali, 100 variabili booleane è un aggregato di tipi di dati elementari, ma tutti dello stesso tipo Supponete invece che io voglio mettere insieme informazioni di tipo non omogeneo Per esempio, voglio fare una scheda personale per un'applicazione Per esempio di tipo gestionale Allora, al mio nome, la scheda associata a me conterrà Una variabile che deve contenere, per esempio, il mio nome e cognome Questa che variabile sarà? Sarà una stringa di caratteri Cioè, conterrà i caratteri C, L, A, U, ecc. per il mio nome e per il cognome Poi mi serve una variabile numerica che mi porta all'età Poi ho una variabile numerica che mi dice, per esempio, qual è il saldo del mio conto Ho un'altra variabile che mi riporta la data dell'ultimo aggiornamento che ho fatto alle mie informazioni La data è una terna, per esempio, di numeri interi Allora, tutte associate insieme ci sono variabili numeriche di tipo reale Variabili numeriche di tipo intero Variabili di tipo carattere che rappresentano il mio nome Tutta questa roba la posso mettere insieme e chiamarla con un unico nome di variabile? La risposta è sì e queste sono le strutture Gli array, invece, sono aggregati di variabili tutte dello stesso tipo Allora, ragazzi, se io dovessi rappresentare il tipo, l'ente, l'elemento vettore dal punto di vista dell'analisi matematica Un vettore che cos'è? Se lo definite seguendo l'analisi, un vettore che cos'è? Forza, nessuno mi indiano una genzione di vettore Iniziamo l'altra cosa, un vettore che cos'è? La combinazione è lineare, no? Un insieme ordinato di elementi Allora, ci stiamo avvicinando Un vettore lo potete, diciamo, vedere come un elemento al quale è associato un insieme di componenti Quindi un vettore avrà le sue componenti Quindi un vettore in uno spazio R a 3 Sarà caratterizzato da un modulo e da una direzione E lo posso rappresentare mediante le componenti Cioè le proiezioni di questo vettore Sugli assi sul sistema di riferimento cartesiano Quindi posso guardare, per esempio, un vettore Identificato attraverso le sue componenti Oppure posso identificare il modo del vettore e così via Ma se io un vettore lo identifico attraverso le sue componenti Ho rappresentato più o meno tutto quello che mi serve Un vettore nel piano Lo posso vedere identificato come una direzione inverso Il modulo che è la lunghezza del vettore Le componenti sono le proiezioni sull'asse inchese e sull'asse x Se io ho un vettore, uno spazio R alla n Come lo posso vedere? Rappresentato come una nnubla di valori reali Che mi danno le componenti Chiamaci per esempio nello spazio R a 3 Ho questo vettore e questo mi rappresenta E' rappresentato dalle componenti nello spazio R a 3 Beh, allora perché un vettore lo posso rappresentare Mediante la nnubla delle sue componenti Allora l'array si presta molto bene come struttura dati Per rappresentare il vettore Perché l'array me lo posso definire come un aggregato Di n elementi tutti dello stesso tipo Per esempio reali Che rappresentano le componenti di questo vettore Nel sistema di riferimento Ma posso anche vedere il vettore Come l'insieme dei valori che ho rilevato da una linea di produzione Quindi vedere solo il vettore Vedere solo l'array come aggregato di valori Tutti dello stesso tipo Ragazzi, tenetela bene in conto questa distinzione Il tipo array si presta a rappresentare insiemi di dati Tutti dello stesso tipo Indipendentemente dal significato che diamo a questi dati Se io prendo per esempio un vettore di 100 elementi Che rappresenta le misure che ho fatto su una linea di produzione Questo certamente non è un vettore Ma è un array Cioè un insieme di misure Tutte relative a una certa linea di produzione Tutte dello stesso tipo Cioè per esempio dei valori reali Viceversa, se io ho un vettore in uno spazio r alla n Allora le m componenti che metto dentro questo array Rappresentano il tipo matematico vettore in senso stretto Quindi con gli array io posso rappresentare insiemi di informazioni Con l'unico vincolo che siano tutte dello stesso tipo Tutte intere, tutte reali, tutte caratterie eccetera Oppure con l'array posso rappresentare il tipo vettore da un punto di vista matematico E su questo poi ci definiremo tutte le operazioni matematiche Che possiamo fare sul tipo vettore Qual è la caratteristica del vettore? Allora, in informatica con il termine array Noi definiamo una sequenza di oggetti dello stesso tipo Gli oggetti sono elementi dell'array e vengono enumerati Cioè l'elemento 0, l'elemento 1, l'elemento 2 Fino ad arrivare all'ultimo elemento che è l'elemento n Il tipo degli elementi immagazzinati in un array può essere qualsiasi Può essere sia un tipo predefinito dal linguaggio Intero, reale, carattere e così via Ma può anche essere il tipo complex che mi sono inventato io E che definisco mediante una particolare istruzione Che si chiama typef che vi farò vedere più avanti Ma ricordatevi che il programmatore può definire nuovi tipi di dati Abbiamo fatto l'esempio del semaforo Abbiamo fatto l'esempio del numero complesso e così via Poi vedremo come si fa in termini di linguaggio Allora, una volta che ho definito un mio tipo di dato Mi posso definire un array, cioè un aggregato Di tanti elementi che siano di quel tipo Quindi in generale l'array sarà un array di tipi elementari O di tipi definiti dall'utente Qual è il vantaggio? Allora, ragazzi Da un punto di vista pratico Guardate questa definizione Con questa definizione sto dicendo al mio compilatore Guarda Non voglio usare un solo elemento intero Ma la mia variabile A Mediante l'operatore Parentesi Guarda aperta Parentesi Guarda chiuso E questo numeretto scritto qui dentro Mi dice Guarda, io non voglio usare un solo valore intero A Ma voglio usare un insieme di 100 elementi di tipo intero Confrontiamolo con questa scritta qui Allora, quando il compilatore vede questo Che cosa fa? Fa in tabella dei sintomi e qui c'ha la memoria Allora dice Inx è una variabile di tipo intero Quanti byte occupa? Facciamo il caso generale Ma il caso più comune è che l'intero occupi 4 byte Allora Vado in memoria a partire dall'indirizzo 1000 E mi prendo questi 4 byte 1000, 1001, 1002, 1003 In tabella dei simboli Scrivo che questo comincia all'indirizzo 1000 Poiché il compilatore sa che il tipo intero L'ho allocato su 4 byte Per lui i byte da 1000 a 1003 Sono intoccabili Perché sono riservati a questa variabile x Poi si trova questa dichiarazione qua Che fa? La stessa cosa Dice Voglio usare 100 elementi di tipo intero Ma se una variabile di tipo intero occupa 4 byte Se me ne servono 100 Ragazzi 100 ma tutte in posizioni consecutive Non è immaginabile che un array E' memorizzato Un pezzo qua Poi qua ci metto altra roba E poi ne metto un altro pezzo qua sotto No Il compilatore dice Tu devi utilizzare un blocco di variabili Tutte dello stesso tipo Allora questo blocco Ha la caratteristica fondamentale Di essere scritto in memoria Tutti in posizioni consecutive Quindi quando il compilatore legge questo Dice Mi servono 4 byte per un tipo intero Ma io ne ho 100 Quindi mi serve un blocco di 400 byte in memoria Tutto disponibile Tutto in posizioni consecutive Allora Vado qui Supponiamo che all'indirizzo 2000 Trovo questo blocco Allora il mio vettore da chi sarà dato? Prenderà gli elementi da 2000 Fino a 2399 Vi ricordo che gli elementi del vettore Vanno da 0 Fino al valore massimo meno 1 Quindi se ho un array di 100 elementi Saranno gli elementi da 0 fino a 99 Mi servono 400 byte Da 2000 fino a 2399 Tutti questi byte Sono tutti associati a questa variabile qui Allora io qui dentro ci scrivo A Ci scrivo che è un array di interi Ci scrivo che è un array di 100 elementi di tipo intero Che comincia all'indirizzo su Rilla Quindi vedete in tabella dei simboli Le informazioni aumentano Perché devo dire che l'array si chiama A Che è un array di 100 elementi di tipo intero Che comincia in memoria Se volete scriverlo meglio Qua possiamo dire È un int 100 Quindi sono 100 elementi di tipo intero Che comincia in memoria all'indirizzo 2000 Allora quando ci chiediamo qual è la dimensione di questo dato Questo occupa 4 byte Questo ne occupa 400 Ho definito il tipo array di interi Adesso mi chiedo Quali sono le operazioni che posso fare su questo tipo? Io posso scrivere x uguale a 10 Ma posso scrivere A uguale a 10 Che senso avrebbe queste istruzioni? Vado qui dentro e metto 10 a tutti gli elementi Metto il tuo 10 Allora questa operazione è vietata nel linguaggio citrosplastico Cioè io non posso fare operazioni Che coinvolgano tutti insieme questo blocco di dati Le uniche operazioni ammissibili sugli array Sono operazioni che riguardano gli elementi dell'array Allora Se io scrivo A di uguale a 0 Qual è il senso di queste istruzioni? A è un array di 100 elementi del tipo intero Scrivendo A di uguale a 0 Io sto dicendo Guarda prendimi Liesimo elemento dell'array Che sarà un numero intero Perché questo è un array di interi E faccio scrivere il valore 0 Il problema che vi pongo è Ma io come faccio a prendere l'iesimo elemento? Io so solo che questo Comincia da domina e finisce qua sotto Per semplificarci i conti Facciamo l'ipotesi Che il mio array Che il tipo intero Occupi un solo byte Poi facciamo il caso più generale Quindi facciamo il caso che occupa un solo byte Allora Se occupa un solo byte Questi vanno da 2000 a 2099 Scrivo A di uguale a 0 Come faccio a capire L'elemento A di dove si trova? Supponiamo che i valga il 15 Che in memoria E la variabile i ci sia scritto 15 Allora quanto il combinatore divide questo? Va in memoria all'indirizzo della variabile i Vedi che ci sta scritto 15 Quindi vuoi prendere il quindicesimo elemento dell'arvei Va in memoria all'indirizzo del quindicesimo elemento dell'arvei E scrivi il valore 0 La domanda è Ma come faccio a sapere Qual è Dove si trova in memoria Il quindicesimo elemento dell'arvei Poiché gli elementi sono memorizzati in posizioni consecutive Come faccio a calcolare l'indirizzo di questo elemento? Avrò l'indirizzo base Più i per d Dove d è la dimensione del dato Allora Se il dato intero occupa un byte Io avrò l'indirizzo base più i per 1 Quindi se i vale 15 Io devo sommare all'indirizzo base Che io ho messo in tabella dei simboli E so che è il 2000 Devo fare 2000 più 15 E quindi il quindicesimo elemento dell'arvei Cioè A di 15 Quale elemento rappresenta dell'arvei? A di 0 è il primo A di 1 è il secondo A di 15 è il sedicesimo Dove si trova in memoria? Se il primo sta a 2000 Questo si trova a 2015 Allora con questa formuletta qua Una volta che in tabella dei simboli Ho scritto Che A È un vettore di 100 Redenti in tipo intero Che comincia all'indirizzo 2000 Quando il compilatore trova questo Dice come faccio a capire qual è l'indirizzo? Applico questa formuletta L'indirizzo base è 2000 La variabile i vale per esempio 15 Va dall'indirizzo 2015 E in questo byte ci scrive il valore 0 Ragazzi se il tipo intero occupa 4 byte Allora torniamo al caso di prima che qua c'era 2399 Allora se io qua scrivo A di 3 uguale 0 Come faccio a capire qual è l'indirizzo dell'elemento A di 3? 4 per 2000 Più 3 per 4 2012 Allora se sta su 4 byte Da 2000 a 2003 È il primo intero Da 2004 a 2007 è il secondo intero Da 2008 a 2011 è il terzo intero Da 2012 a 2017 A 2017 è il quarto intero Arriva in memoria e in questo blocco di byte Ci spino il valore numerico 0 Allora qual è la caratteristica estensata degli array? Che mediante questo trucchetto Io non devo indicare le variabili per nome una per una Cioè se voglio leggere 100 variabili di tipo intero E non solo array Ragazzi io devo fare questo E poi scrivo E poi scrivo Se diventano 200 Aumento qua, aumento qua Ma se invece di fare questo Io ho definito INTA di 100 La lettura di 100 variabili di tipo intero come si fa? Ho finito Ho finito Se le variabili diventano 200 Ho finito Allora capite la enorme portata di questa struttura Quando ho a che fare con aggregati numerosi informazioni Se ho le variabili semplici Ragazzi questo è quello che potete fare Ma se ho invece un tipo strutturato Come l'array Allora diventa questo Quindi il tipo array E' di fatto il tipo più utilizzato in assoluto in tutte le applicazioni dell'informatica Perché mi permette di avere una gestione estremamente flessibile Ragazzi ragioniamo un attimo su quello che sta scritto qua D uguale 0 Qua è scritto C maggiore maggiore A di 0 Ma dove si trova A di 0? Si trova in memoria all'indirizzo 2000 più 0 per D 2000 Quindi A di 0 è il primo elemento che si trova proprio all'indirizzo 2000 Pi vale 1 Qui è scritto C maggiore A di 1 Ma dove si trova di 1? Indirizzo base 2000 Più 1 per D Se D vale 4 Questo è il 2004 E quindi 2000 fino al 2003 è il primo intero 2004 fino al 2007 è il secondo intero E così via Perché questo funziona? Perché il vettore è allocato in memoria tutte in posizioni consecutive Se qui dentro ci fosse un buco sarei fregato e non potrei più applicare questa formula Allora i progettisti hanno definito il tipo aggregato In questa maniera perché mi consente di trasformare in maniera semplicissima Questa istruzione nel generico indirizzo dell'elemento A di Allora ragazzi le variabili non devo più chiamarle per nome Ma posso indicare genericamente una variabile attraverso il valore del suo indice Devo però fare bene attenzione a che cosa? Se ho scritto questo Qual è l'insieme di valori che può assumere l'indice del vettore A? I valori da 0 a 199 E se io sbaglio e scrivo Supponete che per errore Nella variabile i Mi sbaglio qua e scrivo i minore di 500 Perché faccio un errore Secondo me che succede? Questo è quello che voi nei programmi fate più di continuo Poi succede che il programma si blocca di compare errore a runtime E voi non vi sapete spiegare perché Se scrivo questo Compilatore compila Manda in esecuzione il programma E poi dipende da quello che succede Allora, come si comporta il programma? Poiché su tqarray non c'è nessun controllo A differenza di altri linguaggi Come per esempio il linguaggio pascal Il quale io definivo Scrivevo Type Uguale Integer Array 1, 100 O Vinteger Questa è la frase nel linguaggio pascal Quindi si definiva un nuovo tipo Che era l'array Da 1 a 100 Dei valori di tipo interno Se voi provate a scrivere A di 200 Nel linguaggio pascal Compariva un bel messaggio di errore E' ecceduto le dimensioni del dato Invece di fatto quello che c'è scritto qua E' Questa è un aggregato di informazioni La regola per tirar fuori l'indirizzo dell'elemento A di I E' Indirizzo base più I per la dimensione del dato Nel linguaggio C++ c'è una funzione che si chiama sizeof Scritto sizeof Che applicato ad una variabile mi dice quanti byte occupa Applicato ad un tipo mi dice quanti dati occupa Quanti byte occupa Se volete sapere nel vostro compilatore netbeams Nel vostro compilatore GCC Quanti byte occupa un intero Scrivete Cout minore minore sizeof int E vi compare un numeretto che mi dice un intero quanti byte occupa Allora mediante questa formula Nel linguaggio C++ Quando io scrivo A di I Il compilatore traduce questa istruzione dicendo A più I per Sizeof int A è la variabile che comincia in memoria all'indirizzo 2000 Quindi dice 2000 più I per sizeof int Allora se io qua sto scrivendo questa roba Lui che cosa dice? I vale 500 Allora qui scrive A più 500 per sizeof int 6 vale 4 Se la sizeof è 4 500 per 4 fa 2000 2000 più 2000 fa 4000 Va in memoria all'indirizzo 4000 E ci scrive quello che ci scrive Cioè leggo un numero da tastiera E lo scrivo all'indirizzo 4000 Ma all'indirizzo 4000 che cos'è? Boh, può essere un pezzo di codice Può essere un'altra parte di programma Possono essere altre variabili In pratica mediante questa scrittura Io vado in memoria a un indirizzo che mi costruisco con questa formula E senza fare nessun controllo Uso quello che trovo in memoria a questo indirizzo Allora Se sono fortunato E facendo queste robe Eccedo Poi sapete che il nostro programma ha un'area di memoria dove c'è l'area code, l'area data e poi c'è stanno stack Se io facendo queste istruzioni Vado fuori quest'area Il sistema operativo interviene e dice Blocco il programma perché hai tentato di mettere le mani Un'area di memoria associata ad un altro processo Allora sono fortunato perché? Perché me ne accorgo Perché mi compare un errore al runtime Hai ecceduto l'area di memoria del tuo programma E io posso capire che quell'errore è dovuto a un indice Ma se invece indirizzo un'area di memoria che fa parte del mio programma Non me ne accorgo proprio Il programma va qua solo, la scrive Potrebbe anche finire qui dentro E addirittura cancellarmi il mio stesso programma O andare a cancellare i dati di altre variabili Quindi è come una scheggia impazzita Che si muove qui dentro dove trova l'abba Allora è assolutamente fondamentale che sia il programmatore A controllare sempre quando si accedi a un array Che l'indice sia compreso tra 0 e questo valore in 1 Quindi l'indice deve sempre appartenere all'intervallo Se il vettore è di 200, 0, 199 Ragazzi questa cosa non ve la fa nessuno Siete voi programmatori a doverlo verificare L'errore sugli indici dei vettori E' la causa più tipica di errori nei programmi E poiché nel 99.9% dei programmi si usano gli array Questi sono gli errori in assoluto più comuni quando si programma Dovete fare voi molta attenzione ad utilizzare in maniera corretta questi dati Detto questo vediamo giusto qualche definizione e poi per oggi ci fermiamo Allora Il nome del vettore è A Allora è chiaro che La variabile A di 0 Dove si trova in memoria? Proprio all'indirizzo A Perché il nome del vettore Rappresenta l'indirizzo di memoria dove si trova il primo elemento A di 0 si trova allo stesso indirizzo di memoria di tutto A Ragazzi questa è un poco la cosa anomala dei vettori nel linguaggio C++ C'è questa confusione tra il nome del vettore e gli elementi del vettore Di fatto il nome del vettore che cos'è? E' una particolare variabile Che contiene che cosa? Vediamo se ci è arrivato a questo momento Io ho detto che il nome della variabile A Corrisponde all'indirizzo dove si trova il vettore Qua io per trovare l'indirizzo di A di Scrivo A più tutta questa roba Per eseguire questa istruzione Quindi il processore che fa? Va in memoria all'indirizzo della variabile A E ci trova dentro L'indirizzo dove comincia il vettore Ci somma I per questa roba All'indirizzo dove si trova la variabile A di Allora la variabile A E' una variabile che al suo interno che cosa contiene? Non un valore ma un indirizzo Quindi il nome del vettore è una variabile particolare Noi abbiamo già incontrato variabili di questo tipo Quando abbiamo visto delle variabili che contengono degli indirizzi e non dei volumi? Allora Non dica se non è corretto che noi spiegheriamo insieme Quando abbiamo parlato del passaggio di parametri nello stack E abbiamo detto che nello stack introduco il tipo reference Quella variabile in realtà non contiene un dato ma contiene l'indirizzo dove si trova il dato bene, questa è una variabile che ha una natura molto simile il nome del vettore è una variabile che contiene al suo interno l'indirizzo dove comincia il vettore ragazzi, allora avrebbe senso se io scrivessi a uguale a 0 questa roba avrebbe senso prima vi ho detto no ora vi dovreste rispondere perché no se io facessi questo nella variabile a invece di vedere scritto 2.000 ci andrei a scrivere 0 allora quando faccio ad non vado a prendere il miesimo elemento in memoria a partire da 2.000 ma a partire da 0 il vettore me lo sono bello che è perso allora è evidente che questa roba qua non ha nessun senso perché? perché la variabile a è una variabile che viene diciamo scolpita una volta per tutte quando definisco il vettore gli metto l'indirizzo dove comincia il vettore questo numero non lo può toccare più nessuno perché come tocco quel numero sto perdendo gli elementi che ho messo in memoria perché se tocco quel numero quando scrivo ad i non trovo più diesimo elemento perché quando scrivo ad i per trovare l'indirizzo del diesimo variabile io scrivo a più i per size of int allora il contenuto una volta che io scrivo questo per il mio compilatore la variabile a diventa una variabile costante il valore che c'è scritto dentro glielo mette il compilatore una volta per tutte quando riserva spazio in memoria cioè quando trova tutto questo blocco di byte in posizioni consecutive questo valore non può essere più toccato se faccio questo sto sporcando il valore ecco che questa operazione è vietata del linguaggio quindi il nome del vettore è una variabile costante che contiene al suo interno non un valore ma l'indirizzo di memoria dove comincia il vettore vi farò vedere che variabili di questo tipo si chiamano puntatori le vedremo più avanti nel corso e vedremo che c'è un legame molto stretto tra array e puntatori allora detto questo non vi annoio più con aspetti teorici che li vediamo nelle prossime lezioni proviamo a fare una piccolissima applicazione e poi ci fermiamo allora supponete che io adesso avendo a disposizione un vettore voglio memorizzare gli elementi voglio acquisire da una linea di produzione dei valori di un sensore li voglio memorizzare li voglio mettere in una struttura dati e successivamente voglio per esempio calcolare fare un istogramma di questi valori accorpando insieme in un unico valore dell'istogramma questi valori K a K quindi un istogramma che mi deve rappresentare il valore medio sui primi 4 valori poi un altro elemento che mi rappresenta il valore medio sui secondi 4 valori e così via quello che vorrei fare è una roba di questo tipo supponete che io ho tutti questi valori a ogni valore a ogni ho raccolto 100 campioni a ogni campione corrisponde un valore del sensore e io quindi ho un andamento supponete che voglio fare un istogramma nel quale prendo i primi K valori e mi faccio il valore medio di questi K valori poi i secondi e mi faccio il valore medio di questi altri K valori quindi raccolgo quelli e li voglio memorizzare in questa forma come faccio? allora proviamo a fare insieme la disegniamo solo poi vorrei che provasti a farla da soli questo semplice esercizio allora la prima cosa che devo fare se voi doveste fare a mano questa operazione che fareste? innanzitutto fareste un grafico nel quale per ogni campione ci mettete il valore poi prendete i campioni se K vale 4 fate il valore 0 il valore 1 il valore 2 il valore 3 e fate la media e lo mettete nel primo elemento di istogramma poi prendete da 4 a 7 ne fate la media e mettete nel secondo valore medio di istogramma e così via allora parto da 100 campioni quanti elementi avrò nell'istogramma se li raccolgo a 4 a 4 25 quali sono le strutture dati che mi servono per memorizzare queste informazioni abbiamo capito che mi servono 100 variabili per memorizzare i dati e 25 variabili allora lo faccio a mano x1 x100 e poi faccio x1 più x2 più x3 più x0 x1 x2 x3 e faccio la media e me lo metto in del valore chiamiamo le variabili dell'istogramma i di 1 fino a i di 25 oppure uso i vettori uso gli array meglio allora se uso gli array come definisco le variabili per fare questa operazione mi servirà un array di almeno 100 elementi per memorizzare i valori singoli e un altro array di 25 elementi per memorizzare i valori dell'istogramma allora definiamole quindi abbiamo detto che mi servirà un int chiamiamolo v di 100 per memorizzare i valori e qua poi ci scrivo float i chiamiamolo is istogramma di 25 per memorizzare i valori medi queste sono le strutture dati questo è il dato in ingresso questo è il dato di uscita adesso vediamo come faccio a fare questa operazione quando si scrive un programma la prima cosa che bisogna fare è definizione delle variabili acquisizione dati di input devo fare un ciclo quindi qua potrei scrivere for int uguale 0 in minore di 100 i più più e qua ci metto ci out in metti un valore e poi ci scrivo CIN QB in ciclo metti un valore e aspetto l'immissione e lo metto nella variabile VD lo faccio 100 volte ho riempito il vettore VD che per ogni elemento per i che vada da 0 a 99 i che vada da 0 a 99 mi contiene l'elemento che ho immesso e quindi il dato che ho acquisito dal sensore messo sulla linea di produzione adesso voglio fare l'istogramma come faccio? Allora proviamo a farlo generico fatemi cancellare questa roba qui supponiamo che voglio accolpare i valori a K a K quindi K è una generica variabile allora come devo fare a fare questa operazione? Ragazzi in pratica a ogni passo mi seguite? a ogni passo la mia variabile equivale 0 prendo i valori 0 1 2 3 al passo successivo i quanto deve valere i? quanto deve valere? se k vale 4 mi deve valere 4 allora è come se stessi facendo un ciclo nel quale la via variabile i si muove di K in K e quindi è come se stessi dicendo forno i uguale 0 i minore di 100 ma di quanto si incrementa i più uguale K quindi non è i più più questa istruzione significa i uguale i più K entro qui dentro e sto su ultimo valore quanti devo sommarne? abbiamo detto K però se K è generico qua che scrivo K è generico può valere 4 può valere 7 può valere 22 che ci metto qui dentro? se K è una costante fissata più in un numero qua scrivo i più uguale 4 e qua potrei scrivere S uguale a V di più V di più 1 più V di più 2 più V di più 3 perché ho fissato che K vale 4 ma se questo è un valore generico e questa diventa una somma generica una somma generica come si fa? si fa S uguale 0 e qua devo fare un altro ciclo for for J che va da 0 J minore di K J più 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 e qua che devo scrivere S è uguale a S più V di I più J in questa maniera quando I vale 0 J vale 0 e sto sommando S uguale a S più 0 più 0 fa 0 poi sarà 0 più 1 0 più 2 0 più 3 dopo di che devo fare la media e quindi il valore che calcolo sarà che cosa ci metto nel vettore Is il vettore Is quale valore avrà qua ci scrivo fuori ciclo Z uguale 0 e qua scrivo Is di Z allora questo è quello che faccio nel ciclo fuori poi una volta che ho finito questo ciclo la variabile S ha sommato i primi valori e qua scriverò Is di Z è uguale a S diviso K dopodiché scriverò Z più più il programma è finito allora ragioniamo insieme su tutti i passi che ho fatto ragazzi vi è chiaro quello che ho fatto è andato troppo veloce ragioniamoci insieme in primo ciclo ho letto tutte le variabili adesso devo memorizzare il valore medio fatto a K allora ho questo secondo vettore che inizialmente è vuoto mi pongo con l'indice Z uguale 0 vedete il vettore Is ora è vuoto allora Z vale 0 quindi questo è il primo elemento questo ciclo mi fa prendere i valori di queste variabili a K a K perché i vale 0 poi vale 4 poi vale 8 se K vale 10 i vale 0 poi vale 10 poi vale 20 e così via per ogni ogni volta che entro qui dentro devo fare la media di un gruppo di K valori per fare la media sommo i K valori e poi faccio il rapporto tra S e il numero di valori come faccio a fare questa somma? vedete qui i vettori mostrano tutta la loro potenza scrivendo I più J io sto dicendo in ciclo somma all'indice I l'indice J che varia da 0 a K meno 1 quindi è I più 0 I più 1 I più 2 I più K meno 1 cioè ho sommato i primi ne faccio il rapporto cioè prendo il valore medio questo valore lo vado a scrivere qua dopodiché incremento la variabile Z il prossimo lo scrivo qua e poi il prossimo più 2 e così via una volta che ho fatto questo in questi due vettori qui ho le variabili che ho preso direttamente dal link qui ho calcolato i valori medi di questi elementi a K a K volendone potrei calcolare anche la deviazione standard e metterla atti con la formuletta calcolo media e deviazione standard e di questi insieme di valori mi calcolo la media e la deviazione standard dei dati presi a K a K ragazzi questa operazione con l'uso degli array si traduce in 4 righe di codice se non avessi questa struttura dati impazzirei dovendo scrivere questa cosa ma soprattutto questo programma che ho scritto se io uso invece dei numeri le costanti simboliche allora qua mi definisco ora questo è un vettore genetico di n elementi dove questa è una costante che io metto direttamente quando parte il programma cambio questo valore cambiano tutto questo che cosa deve diventare? allora devo mettere un'altra costante cos int K per esempio uguale a 4 e questo diventa N diviso K dopodiché questo programma è completamente generico voglio fare voglio prendere 1000 elementi presi a 20 a 20 cambio due numeretti che ho scritto qua questo che ho scritto non cambia più ecco l'importanza delle costanti simboliche ragazzi se lo faccio a mano e mi scordo di cambiare due di queste variabili sono reali e qua scrivo 100 e qua non scrivo 100 correttamente ho commesso un errore allora per evitare di commettere errori usate le costanti simboliche tutto è espresso in funzione di queste costanti una volta per tutte questa roba prende valore addirittura questi e li potrei mettere nel file .h il main e le altre funzioni non le tocco più questa roba è scritta una volta per tutte nel leader file posso rigenerare il nuovo codice semplicemente cambiando due numeretti nel leader file e facendo il tast build e ricompire il mio programma ho fatto un'operazione concettualmente complessa ma sono diventate tre istruzioni ragazzi perché sono diventate così poche le istruzioni perché mediante l'array quello che io programmo è la singola operazione il fatto che venga ripetuta n volte è perché è inserita in un ciclo perché posso fare questo perché ho gli indici gli indici derivano dal concetto di vettore che abbiamo introdotto prima se non avessi quello tutta questa roba non avrebbe proprio senso allora da adesso in poi noi ci concentreremo nello studio su questa struttura d'avi e la guarderemo sia come in questo caso come un aggregato di elementi cioè l'array è una repository dove mettono dei valori tutti dello stesso tipo poi vedremo l'array come realizzazione del tipo matematico vettore con tutte le sue proprietà alla stessa maniera faremo gli array bidimensionali che possono essere repository di informazioni ma anche matrici in senso matematico e potremo studiarle proprietà prodotto matrici riga per colonna prodotto scalare di un prodotto scalato di vettori e così via quindi da questo momento in poi con questo nuovo tipo di dato faremo tutte queste operazioni parallelamente porteremo avanti anche il concetto di struttura perché a me anche l'idea di avere un'unica variabile che contiene dati di tipo disomogeneo mi può tornare molto utile nelle applicazioni allora il tipo aggregato lo useremo in questa forma quando è un aggregato di oggetti tutti dello stesso tipo con le struct quando saranno aggregati gli oggetti di tipo diverso ci vediamo davanti